Allora, signor Copotelli, a cosa le succede? Perché ha voluto vedermi con tanta urgenza? Ma niente, dottore, mi fa male il mondo. Lo sento qui, nello stomaco, e qui, nella gola, una sorta di cipollone che non va nessù né giù. Va bene, va bene, ma ci siamo già visti la settimana scorsa e quella ancora prima. Che disturbi sente? C'è qualcosa di nuovo. Cos'è che le fa male? Mi fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo e non sanno che il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio. Mi fa male anche quando mi dicono che mia nipote mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male quelli che sanno tutto e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini esageratamente educati, distaccati, formali. Ma mi fanno più male quelli che per essere autentici ti ruttano in faccia. Mi fa male essere così delicato e non solo di salute. Mi fa male la burocrazia. Mi fa male l'apparato, la sua mentalità, la sua arroganza. Mi fa male lo Stato. Come sono delicato. Mi fa male il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Mi fa male l'immanente destino del pianeta Terra minacciato dal grande buco dell'ozono, dall'effetto Serra e da tutte quelle tragedie planetarie che al momento poi, a dire la verità, non mi fanno mica tanto male. Mi fanno male i telefonini, i Whatsapp, i computer e la realtà virtuale, anche se al momento non so cosa sia. Mi fa male l'ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno. Mi fa male la carta stampata, gli editori, tutti. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti, un regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino e una brioche, grazie. Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali perché la realtà è pluralista. No, non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa. Mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupano di informare la gente. I giornalisti, che vergogna! Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, dai, un po' di migranti annegati, è un periodo che funzionano. Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate, facce libere, indipendenti, ma estremamente rispettose dei loro padroni, padroncini, facce da grandi missionari dell'informazione, che il giorno dopo guardano l'indice di ascolto, sì, alla televisione, facce completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, sempre più trasgressivi, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. Come sono delicato. Mi fa male quando mi mandano centinaia di mail e mi chiedono di firmare contro Salvini e tutti i populismi, per la pace nel mondo, per le foreste dell'Amazzonia, per le balene del Pacifico, e poi mi chiedono un piccolo contributo, un'offerta libera, soldi, tanti soldi, per le varie ricerche, contro la vivisezione, per il terremoto nelle Filippine, per le suore del Nicaragua, per la difesa del cangura australiano. Ma devo fare tutto io. Mi fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male anche quelli che dicono che le disuguaglianze sono inevitabili. Il pesce più grosso mangia quello più piccolo. Ti farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene. Mi fa male la grande industria. La media industria mi fa malino. La piccola non mi fa praticamente niente. Mi fa male che l'Italia, cioè voi, cioè io, siamo riusciti ad avere, non si sa bene come, 2300 miliardi di debito. Si sa, un vestitino oggi e un orologino domani. Basta distrarsi un attimo e si va sotto di 2300 miliardi. Lo sappiamo tutti, ce lo sentiamo ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che abbiamo. Ma con chi ce lo abbiamo? A chi ridobbiamo questi soldi? Questo non si sa. Questo non ce lo vogliono dire. No, perché se ridobbiamo qualcuno che non conta, vabbè, gli abbiamo tirato un pacco ed è finita lì. Ma se ridobbiamo a qualcuno che conta, 2300 miliardi, prepariamoci a pagare in natura. Mi fa male la violenza, mi fa male la sopraffazione, la prepotenza, l'ingiustizia. Mi fa male vedere morire i migranti nel mare, ma mi fa male vederli parcheggiati nei Cie o schiavizzati nei campi di pomodori al sud. Mi fa male vederli ciondolare alla sera per le strade di Torino e averne paura. E non poterlo dire che ho paura, perché c'è subito uno stuolo di buonisti col ditino alzato che mi richiama con doloroso stupore. Ne ho paura, dottore, sì! Ne ho paura! E mi fa male averne paura! Mi fa male... Mi fa male chi crede che le guerre si facciano per ragioni umanitarie. Mi fa male anche chi muore nei lager della Libia, in Palestina, in Egitto. Mi fa male Giulio Reggeni. Mi fa male Vittorio Rigoni. Mi fa male chi muore. Mi fa male chi muore e chi sacrifica chi muore alla ragion di Stato. Mi fa male chi dice che gli fa male chi muore e fa finta di niente sul traffico delle armi, che è uno dei pilastri su cui si basa il nostro amato benessere. Mi fanno male le lobby di potere, le logge massoniche, la P2. Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello conosciuto, ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi è il vero potere. Mi fanno male le oscillazioni e i rovesci misteriosi dell'alta finanza. Più che male mi fanno paura, perché mi sento nel buio, non vedo le facce, nessuno ne parla, nessuno sa niente. Sono gli intoccabili. Facce misteriose che tirano le fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi da farci sentire legittimamente esclusi. e lì, in chissà quali magici o vattati saloni che a voce bassa e con modi raffinati si decidono le sorti del nostro mondo, dalle guerre di liberazione ai grandi monopoli, dalle crisi economiche alle cadute dei muri, ai massacri più efferati, ai business sui migranti, quelli in partenza e quelli in arrivo. Capisce, dottore? C'ho tutto qui? me lo dica, me lo dica lei cosa devo fare.